abbiamo condiviso molti molti sviluppi un bel percorso un bel percorso insieme perfetto non che anche lui sponsor della degli auto days d'italia 2024 con open force grazie e supporto logistico di questa edizione visto che stanno a due passi quindi io invito a fare un applauso ad alessandro camilli che so già che da domani non mi risponderà più al telefono bravo qui c'è la clacca c'è la clacca io ti faccio ti auguro un buon lavoro siamo tutti curiosi di ascoltare il tuo talk che si intitola scorta di sicurezza ottimizzazione di giacenza secondo tu grazie allora buongiorno a tutti aspetta eccoci qui oggi vi presenterò farò da portavoce un progetto che ci ha visto realizzare per un cliente una richiesta che ci ha permesso di rispolverare qualche formula matematica e qualche nozione di economia ok parliamo della scorta di sicurezza e in queste slide noi in questo talk noi andremo a vedere un po che cos'è la scorta di sicurezza come si calcola alcuni aspetti di come può essere interpretata in diverse modalità in base a come alcuni prodotti si muovono rispetto ad altri quello che odoo mette a disposizione odoo standard e lo strumento che abbiamo realizzato per questo cliente quindi partiamo con la definizione della scorta di sicurezza io sono solito usare termini non troppo tecnici per cercare di far arrivare il concetto a tutti quanti perché potrebbe io spero di non ve lo auguro però vi potrebbe capitare di doverci mettere le mani su queste cose qua quindi io non ve lo auguro però può succedere allora quindi diciamo che la scorta di sicurezza è la quantità da tenere in magazzino per soddisfare i fabbisogni aziendali ok partiamo da qui è importante che ci sia una scorta di sicurezza ottimizzata fatta bene per due ordini di motivi principali uno è quello di avere un livello di servizio alto ovvero la capacità di un'azienda di evadere un ordine nel più breve tempo possibile quindi avere la merce in magazzino già pronta quando arriva la richiesta del cliente vuol dire evaderla con una velocità maggiore ok e poi che cosa succede se la scorta di sicurezza noi l'applichiamo ai alla componentistica perché siamo un'azienda di produzione e se questo pezzo ci manca in magazzino si rischia pure a volte di bloccare un processo produttivo quindi è importante ottimizzarla però averne troppa di merce a magazzino che cosa comporta comporta pure che abbiamo del denaro fermo in magazzino cioè non ha senso comprare tanta merce che poi la smaltiamo in un anno perché poi succede che abbiamo del denaro che avremmo potuto utilizzare in un altro asset aziendale e se avessimo dovuto fare un'operazione finanziaria ci saremmo dovuti rivolgere alle banche quindi avremmo avuto degli aumenti dei costi bancari ok quindi è importante ottimizzarla il calcolo della scorta il calcolo della scorta dobbiamo vedere due aspetti fondamentali per calcolare la scorta uno è il consumo medio ok e quindi come si movimenta il nostro prodotto in magazzino e il tempo di approvvigionamento ovvero quanti giorni dobbiamo aspettare affinché un fornitore ci consegna le merce per quello che riguarda i consumi noi che cosa andiamo a vedere andiamo a vedere appunto come si è movimentato il nostro prodotto in magazzino quindi quanto ne abbiamo venduto in un determinato periodo e per quello che riguarda i componenti cioè non possiamo andare a vedere le vendite andremo a vedere i prelievi di magazzino per la produzione la scorta cioè il calcolo la formuletta è stata messa qui sotto dove è la quantità consumata nel periodo diviso i giorni del periodo in sostanza è il consumo medio il consumo medio per il lead time del fornitore quindi per il tempo di produzione o per il tempo che il fornitore impiega per consegnarci la merce a magazzino quella è la scorta di sicurezza quindi facendo un esempio se noi consumiamo un pezzo al giorno e il fornitore ci consegna dopo cinque giorni ogni cinque giorni noi dobbiamo tenere una scorta di magazzino di cinque ok perché il quinto giorno noi consegniamo l'ultimo pezzo e il fornitore ci rifornisce di altri cinque e quindi non avremmo mai a magazzino la famosa rottura di stock ok quindi il fatto che mi arriva la richiesta del dal cliente o dalla produzione e io a magazzino non ho nulla qui ho voluto abbiamo detto no che il consumo medio fa parte in maniera molto importante del calcolo della scorta di sicurezza però il consumo medio attraverso questo grafico l'ho fatto per farvi capire che non tutti i prodotti si muovono allo stesso modo ok ci sono prodotti che si muovono in maniera diversa qui abbiamo quattro esempi ho fatto quindi c'è nel tempo abbiamo la linea verde che rappresenta la movimentazione di un prodotto che magari sta andando fuori moda ok prima avevo un consumo elevato e mano a mano sta scemando ok questo consumo abbiamo la riga blu che rappresenta un prodotto che bene o male durante l'anno ha sempre un consumo quindi una o lo vendiamo comunque sempre qualche mese un po di più qualche volta un po di meno però c'è sempre poi abbiamo la linea rossa che rappresenta un prodotto che sta acquisendo quote di mercato quindi prima c'aveva un consumo molto basso poi mano a mano nel tempo il consumo aumenta poi abbiamo la linea era gialla è diventata arancione ok la linea arancione che è il prodotto stagionale è il prodotto che si muove solo all'interno di un determinato periodo dell'anno ok può succedere no il prodotto estivo i gelati per esempio ok quindi capite già che quando mi approccio al concetto di scorta non li posso trattare tutti allo stesso modo questi prodotti qua ok vi faccio un esempio qui ho ripreso la movimentazione del prodotto blu che è quello che si movimenta durante l'anno in maniera più o meno sempre la linea rossa rappresenta la scorta di sicurezza che io ho fissato ok è fissa per tutto l'anno ovviamente succede che qualche volta viene consumato di più qualche volta di meno la linea arancione sotto rappresenta la giacenza di magazzino in questa situazione qui noi abbiamo quattro quattro punti di rottura quattro rotture di stock in quattro momenti noi riceviamo la richiesta del cliente quando abbiamo dei picchi nonostante abbiamo definito una scorta di sicurezza la merce al magazzino non c'è ok allora questo per dire cosa per dire che la scorta di sicurezza va aggiornata va aggiornata perché se la tengo sempre ferma ok poi dopo potrebbe capitare la rottura di stock va bene e quindi vabbè io ho fatto un esempio quale sarebbe stata la scorta di sicurezza come dovrebbe essere stata aggiornata per non avere i punti di rottura e questo è un esempio in questo caso la scorta di sicurezza viene aggiornata mensilmente quindi così bene odù che cosa mette a disposizione per gestire la scorta di sicurezza questo strumento qui che sono le regole di riordino nelle regole di riordino noi che cosa andiamo a definire andiamo a definire la quantità minima da tenere a magazzino più altri parametri quindi la quantità massima il multiplo eccetera ci sono tanti parametri però adesso noi ci concentriamo sulla quantità minima è quella che ci interessa in questo momento quindi questo è lo strumento che odù mette a disposizione noi da qui siamo partiti perché quello quello come abbiamo detto prima quel dato lì va aggiornato va aggiornato con un certo criterio ok allora cosa ci siamo inventati ok questo è noi abbiamo gli obiettivi erano questi qui sono la linea rossa è diciamo il tendere del nostro strumento quindi il nostro strumento che cosa deve fare quando ci troviamo davanti a un prodotto che troviamo a sinistra il prodotto stagionale ok dove la linea blu rappresenta il consumo medio e la linea rossa rappresenta la scorta vedete questo è un prodotto stagionale che viene consumato d'estate quindi noi che cosa puntiamo a fare con la scorta ad aprile già tirare sulla scorta va bene per far fronte alle prime alle prime richieste poi a settembre il mese prima che finisca il consumo stagionale azzerare la scorta ok quindi questo è diciamo un obiettivo in caso di prodotto stagionale in caso di prodotto che con consumo crescente la scorta mano a mano di rialzarsi come si muove come aumenta il consumo durante l'anno allora adesso andiamo a vedere lo strumento noi abbiamo introdotto il concetto di politica di scorta ok è un concetto che poi adesso andiamo a vedere che sono delle regole che ci consentono di calcolare il consumo medio ok quindi andiamo a dire questo prodotto li applichiamo quando dobbiamo calcolare il consumo medio di un prodotto ti comporti in un determinato modo adesso vediamo come queste politiche di scorta noi le possiamo andare ad impostare sia a livello di categoria prodotto dicendogli di propagarsi su tutte le sottocategorie oppure all'interno di un singolo prodotto all'interno di un singolo prodotto ovviamente è prioritaria la politica messa sul singolo prodotto se appartiene a una determinata scorta che dove io ho già messo un'altra politica quindi diciamo i dati quali sono il nome della politica della scorta in questo caso abbiamo fatto una politica di scorta dove noi andiamo a prendere gli ultimi sei mesi del prodotto il tipo periodo è numero giorni precedenti gli diciamo di andare a prendere i 180 giorni precedenti quindi gli ultimi sei mesi e di andare a prendere la quantità ordinata nel caso delle vendite non quella consumata perché se ho avuto no scusa quella consegnata ok perché se ho avuto una rottura di stock magari ne ho consegnate meno e quindi non riesco a avere un dato corretto per calcolare il consumo medio ok quindi diciamo questo è un esempio di politica poi abbiamo anche la possibilità di inserire una politica di scorta con delle regole multiple delle regole composte e l'abbiamo dovuto utilizzare per gestire i prodotti stagionali perché il prodotto stagionale come vi avevo fatto vedere sul grafico precedente presenta solo un periodo in cui io gli devo dire di andare a calcolare la scorta di andare a mettere la scorta e quando gli dico di calcolarmi la scorta gli dico di prendere come consumo medio non quello del mese precedente perché ma quello del periodo dell'anno precedente ok e io in questo caso qui che cosa gli dico dal primo di aprile al 31 di agosto quando mi calcoli la scorta vai a prendere dal giorno 1 al mese 5 al giorno 30 al mese 9 la quantità ordinata quindi dell'anno precedente qui noi ragioniamo sempre per giorno e mese in un anno l'anno lo calcola lui in automatico va bene e abbiamo messo una seconda regola dove gli abbiamo detto che da novembre al 31 marzo quindi la scorta deve essere ignorata non voglio la scorta va bene quindi e poi va bene dopo le politiche ognuno se le fa come vuole però diciamo con questo sistema qui noi possiamo andare a mettere le politiche sulle categorie sui prodotti e via dicendo ora il risultato finale qual è che noi abbiamo un pannello che adesso andremo a vedere che può essere estratto in maniera con un cron in maniera con una frequenza stabilita oppure anche manualmente quando l'utente vuole andare a vedere il risultato finale è questo qui è praticamente l'elenco adesso qui i prodotti sono stati oscurati è questa colonna grigia però è un elenco dei prodotti dove ti fa vedere la quantità media calcolata dove ti suggerisce la quantità da mettere come scorta la raffronta con la scorta attuale e in alcuni punti dove c'è scritto execute c'è il pulsantino per aggiornare la scorta di sicurezza quella che sta in anagrafica del prodotto questo passaggio è ovviamente manuale però diciamo qui ci sono tutte le funzionalità per filtrare tutte le righe elaborate far vedere solo quelle dove lo strumento ti suggerisce il cambio della scorta ti dice se quindi in questo caso qui ti dice di abbassarla cioè quello lì che vediamo evidenziato se no quello in alto a destra una volta che abbiamo fatto l'operazione di aggiornamento traccia la data e l'ora in cui è stato fatto l'aggiornamento lasciando però di fianco lì su aspetta si vede lì uno ok questo qua ecco perfetto qui è uno qui in questo caso qui praticamente il suggerimento era quello di azzerarla va bene noi l'abbiamo azzerata però qui rimane uno per tenere traccia che prima c'era uno sulla scorta di sicurezza va bene quindi poi qui ci sono tutta una serie di informazioni che possono servire per regolarsi già subito occhio se il calcolo è corretto e poi c'è il pulsante va bene per vedere la disponibilità e via dicendo ok quindi io questo è lo strumento passiamo subito alle domande io ho finito mi era appena seduto un attimino vieni al centro vieni al centro grazie Alessandro per la funzionalità molto interessante qualche domanda eccolo là quindi vedete che è nata da una necessità di un cliente sì 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 volevo sapere solamente se era disponibile e in questo momento è a livello custom ok però stiamo pensando di fattorizzarlo per fare un prodotto per fare un prodotto ad hoc per l'idea complimenti grazie ma sarà rilasciata su Oca? ancora dobbiamo prendere una decisione su questo ci stiamo pensando immagino che ci sia un bel po' di lavoro dietro in uno sviluppo di questo tipo spesso e volentieri diciamo si cerca di rilasciare quanto più possibile poi laddove c'è la possibilità anche di avere collaborazione e far crescere ulteriormente i moduli però spesso e volentieri ci sono dei lavori che portano via un bel po' di tempo immagino che sia stato impegnato è per questo che non mi rispondevi al telefono un parto c'è qualche altra domanda eccolo qua addio stai attento io lo vedo con uno sguardo no ok vai per ultimo il segretario salve ciao volevo chiederti se quando tu calcoli la giacenza minima tieni conto o eventualmente c'è la possibilità di tenere conto anche della zona relativa alla richiesta perché uno può avere anche dei poi logistici in cui c'è la possibilità di avere questo tipo di esigenza allora bella domanda ok allora i pulsanti che avete visto lì dove Odù ti consiglia di adeguare la scorta di sicurezza appaiono solo se il prodotto ha una regola di riordino perché per la legge di Pareto ok quindi il 20% dei prodotti fanno l'80% del fatturato noi ci aspettiamo che il cliente ci dica quali sono i 20% dei prodotti che vuole monitorare perché se dobbiamo monitorare tutto è un problema quindi il fatto che ci sia questo prerequisito quindi delle regole di riordino sappiamo bene che le regole di riordino hanno l'ubicazione dentro quindi sì cioè il calcolo viene fatto in base all'ubicazione che c'è sulla regola di riordino è qui attenzione se hai bisogno di supporto avevamo concordato che non avresti fatto le domande no male è venuto apposta i giorni di lead time li devi mettere su ogni singolo articolo o lo puoi mettere solo sul fornitore o su entrambi allora i giorni di lead time sono quelli standard di Odù sono quelli che vengono messi dentro al fornitore dentro il form del prodotto e in fase di calcolo noi prendiamo il fornitore predefinito quindi il lead time all'interno del fornitore predefinito ok bene ha risposto bene hai visto? ok facciamo un grosso applauso grazie Alessandro grazie a te per il prezioso contributo grazie grazie a te per il prezioso contributo